Padre Michele D'Antona sarà ricordato il prossimo 5 dicembre alle ore 17 presso la Basilica dell'Immacolata. Enzo Di Natali sarà uno dei relatori. Padre Michele D'Antona è un frate francescano conventuale nato a Ravanusa e che in questo novecento si è distinto soprattutto per l'amore nei confronti dell'Immacolata, tanto che fu promotore della milizia dell'Immacolata voluta da padre Massimiliano Colbe. Padre Michele D'Antona si prodigò soprattutto per un apostolato nei confronti dei giovani. Eravamo nel dopoguerra, gli anni 50-60 videro in Sicilia l'emigrazione, l'abbandono delle terre e tante famiglie avevano i propri mariti all'estero e tanti ragazzi erano in mezzo alla strada, poveri. E qui emerse la figura di questo frate francescano, di questo degno figlio di San Francesco che fondò a Ravanusa il villaggio della gioventù, ma fondò pure le educatrici e missionarie proprio per l'educazione dei ragazzi. Sarà ricordato durante la novena dell'Immacolata qui ad Agrigento, nella Basilica dell'Immacolata, attraverso diversi interventi come quello del Ministro Provinciale, padre Gaspare Labarbera, che parlerà di padre Michele Francescano Conventuale. Un altro intervento di rilievo sarà quello di Marinella Barrile, che parlerà di padre Michele e le educatrici e missionarie padre Colbe. Ricordare questo francescano significa guardare sempre alla gioventù, significa avere un particolare amore nei confronti della Madonna, significa attualizzare oggi la figura di San Francesco d'Assisi.